Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale! Oggi vi farò vedere come fare un contouring facile, veloce su un viso lungo quindi come fare ad accorciare un viso lungo se invece avete il viso tondo mi rimando a un altro video, un altro tutorial che ho fatto e vi lascio il link nelle schede utilizzerò tre prodotti differenti, vi farò vedere l'effetto la cosa importante è che vi farò vedere l'effetto cioè come risulta questo contouring alla luce del sole quindi alla luce naturale vi lascio subito al video il viso lungo è un viso che si sviluppa più in verticale per cui bisogna accorciarlo, allargandolo e adesso vi farò vedere come fare utilizzando questa palette qui che ho usato anche nell'altro video riprendo questo colore qui della palette e lo applico nella parte alta sulla fronte poi scendo anche un po' giù non tantissimo per non stringerlo vado naturalmente ad accorciarlo e per accorciarlo devo applicare il colore anche sul mento potete applicarlo anche sotto il mento l'importante è che venite un po' avanti quindi anche sopra il mento questi sono i punti fondamentali l'attaccatore dei capelli e il mento e già questo vi aiuterà a restringere il vostro viso poi c'è un altro elemento che è il naso quindi potete applicarlo anche sotto al naso per creare una sorta di ombra poi se volete mettere in evidenza gli zigomi potete anche applicarne un po' ma poco perché noi dobbiamo allargare il viso sotto gli zigomi appena un po' per creare un'ombra per scolpire il viso invece adesso applico il colore più chiaro della palette per creare i punti luce e qui lo potete applicare al centro della fronte potete anche allargarvi un po' e i colori chiari in generale sono quelli che allargano nella zona qui delle guance andando anche un po' su dove ci sono gli zigomi qui ho messo la parte scura qui la parte chiara in modo da allargare il viso poi se volete un po' sul mento ma appena potete allargarvi un po' con questa zona chiara creare questo triangolino e poi su sullo zigomi adesso prendo la beauty blender e vado a sfumare picchiettando dove applicare il brush e l'illuminante prendo questo colore qui che è un colore chiaro ma leggermente perlato quindi se avete l'illuminante potete utilizzare un apposito illuminante specifico illuminante e lo applico così potete farlo anche col dito facciamo prima magari col dito picchiettandolo sullo zigomo per allargare un po' il viso se vi state chiedendo dove va applicato il blush adesso ve lo faccio vedere e va applicato in questa zona qui quindi praticamente sotto la zona che avete illuminato però applicatelo in modo orizzontale quindi non andando verso l'alto ma andando verso l'esterno per far sembrare il viso più largo quindi potete venire anche un pochino più avanti non partire proprio da di qua ma arrivare anche in questa zona qui procedimento identico però utilizzerò dei prodotti diversi utilizzerò un fondotinta più scuro magari utilizzate quel fondotinta che avete acquistato che è troppo scuro per il vostro colore di incarnato magari è ora di utilizzarlo in qualche modo poi vi servirà un correttore un illuminante io utilizzo questo correttore che è abbastanza chiaro e mi servirà appunto per creare le zone più chiare con il fondotinta più scuro creo le zone in ombra in ombra quindi attaccatura dei capelli scendo un po' giù sotto ho applicato il normale fondotinta che uso sempre quindi come base poi zona qui dello sigomo questo si scurisce un po' anche di qua sotto lo sigomo per sottolinearlo appena e poi zona del mento poi lo applico sotto qui al naso adesso è arrivato il momento invece di mettere in evidenza quelle che sono le zone luce e vado ad applicare il correttore al centro della pronte verso la parte laterale quindi così non arrivate in cima perché in cima c'è il colore scuro potete allargarvi abbastanza poi prendo la beauty blender e vado a sfumarlo lo sfumo subito perché questo correttore tende ad asciugarsi molto rapidamente e dopo è difficile da sfumare create il famoso triangolino sulle guance allargandovi un po' soprattutto qui sopra sopraduco sigomo andate molto verso l'esterno e poi suonate un po' leggermente sul mento ma appena appena per non allungare di nuovo il viso proprio creare un punto luce è fatto rispetto al primo contouring che ho fatto con l'apposita palette naturalmente si nota molto molto meglio usando un fondotinta l'effetto risulterà comunque sempre naturale anche alla luce del sole è difficile che l'effetto sia troppo pesante adesso utilizzerò il prodotto in polvere questo secondo me è il contouring più veloce potete farlo veramente in pochissimi minuti lo applico all'attacca cuburale nella parte alta della fronte sottolineo la zona degli zigomi appena appena e poi cerco di accorciare il viso applicandolo sulla zona del vento e molto in avanti e anche un po' sotto al naso e il contouring è finito e l'ho realizzato veramente in pochissimi minuti vi saluto vi mando tanti tanti bacioni fatemi sapere se vi sembra abbastanza semplice e veloce questo contouring vi è piaciuto questo video date un'occhiata anche agli altri sul canale e se vi piace il canale non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video io vi saluto bacioni alla prossima ciao ciao